Progetto Pescara Solidale, Assessore, quali sono i contenuti di questa iniziativa? Aiuti concreti per i cittadini e per le famiglie, ricordiamo che avremo tanti beneficiari perché abbiamo un importo di oltre 160.000 euro, quindi di risorse, e saranno degli aiuti concreti che potranno essere sia dei servizi per servizi, immaginiamo delle famiglie che vorranno fare dei corsi d'inglese, oppure corsi di informatica, oppure partecipare a dei centri ricreativi, ossia nell'acquisto di forniture, che vanno a seconda dell'iniziativa, a seconda del progetto a cui aderirà la famiglia, potranno andare da 0 ai 17 anni, quindi potranno andare dall'acquisto dei pannolini all'acquisto delle pappette, per i più grandi per acquistare libri o un pc o un tablet, quindi sono delle misure concrete di sostegno e poi dall'altra parte quindi un aiuto sia per le famiglie ma anche per le attività economiche, perché questo è un po' un fattore che ci dà tante soddisfazioni perché intercettiamo queste ricorse nazionali e le portiamo nel territorio, sono 160 mila euro che potranno essere spese per le nostre attività economiche e quindi daranno anche un concreto attivo a tutti e anche agli operatori che aderiranno alla piattaforma. Quante sono le famiglie che beneficeranno di questi Y-Cher? In totale sono 360, quindi un numero abbastanza ampio, diciamo che di solito sono 475 euro, quindi la media è 475 euro che in alcune situazioni si vanno anche a raddoppiare, nel caso in famiglia ci fossero anche dei ragazzini disabili. Sono degli aiuti, ti ripeto, degli aiuti concreti, perché noi anche come politiche sociali, ringrazio qui a fianco a me, abbiamo Pire Antognoli che era responsabile del servizio delle politiche sociali, ci rendiamo conto che gli aiuti non bastano mai, però in questo contesto soprattutto sono aiuti immediati perché noi andremo da qui a metà mese di settembre, già siamo a metà mese di settembre e già una volta che avremo aspettato tutte le pratiche immediatamente daremo questi rimborsi, quindi misure concrete e veloci.